Siamo molto felici di essere qui insieme a San Patrignano e l'associazione, la fondazione di San Basilio. Noi veniamo da Milano e ci occupiamo soprattutto di fitness e di danza. Negli ultimi anni è nata una collaborazione con San Patrignano sui tema della prevenzione. Dal 2008 ci stiamo occupando di cercare di portare nell'area di Milano la danza come strumento di prevenzione e come possibilità di rilancio per i giovani che hanno diversi tipi di disagio. In particolare collaboriamo a Milano anche con un amico Charlie che si occupa del disagio nel periodo dell'adolescenza.